Sicuramente un'ottima vittoria, una prestazione di lodevole intensità, siamo in una fase ancora iniziale della nostra storia, della nostra stagione, però mostrare l'autorevolezza che abbiamo avuto stasera è sicuramente promettente. Una partita che è nata sotto cattivi auspici, complice l'infortunio di Gentile che fino a pochi minuti dall'inizio sembrava impedirci di poterlo schierare. Poi è stata sua volontà quella di giocare e sicuramente decisivo il suo contributo, soprattutto nei primi 20 minuti, perché si dilatasse il vantaggio e forse se una piccola recriminazione può esserci è quella che nel secondo periodo quando Kaunas è passata in questa zona, abbiamo costruito tiri di qualità egregia completamente aperti, purtroppo sbagliandoli e questo ha ridato un po' di fiducia ai nostri avversari. In questo momento di stagione non è così preoccupante il fatto che poi Kaunas, visto anche il valore intrinseco della squadra, abbia avuto la possibilità di rientrare, ma è sicuramente più promettente il fatto che una partita tornata sui binari di equilibrio, siamo tornati a vincerela con grande autorevolezza, trovando dei protagonisti fino a quel momento silenti come Samuels e come Lenford che hanno trovato le giocate chiave per mandare in bonus Kaunas, per trovare dei liberi preziosi, per trovare a ribalso attacco degli extra possessi importantissimi. Mentre per giocatori come Gerles, Moss e Melli c'è stata una partita più lineare nel corso della gara, è sicuramente più promettente il fatto che chi sembrava un po' fuori da questa partita ha trovato nel finale giocate importanti che si sono rivelate preziosissime per la squadra. Niente, come detto, avevamo vissuto questa vigilia con l'idea che questa gara fosse importantissima per mantenere vive le nostre ambizioni di passaggio alle top 16 e ovviamente affrontavamo questa partita con un po' più di pressione rispetto ai nostri avversari perché commettere un passo falso in casa sarebbe stato complicato. Adesso riflettiamo su quanto ancora il nostro gioco possa migliorare, però partiamo con una dote preziosa che è l'energia, la combattività, l'entusiasmo che abbiamo dimostrato con buona continuità nell'arco della gara.